Ed eccoci in fine alla pagina sportiva, mercoledì da ricordare per le formazioni italiane impegnate in Champions League. A San Siro la formazione nerazzurra dell'Inter di Antonio Conte ha battuto con una doppietta di Lautaro Martinez per 2-0 la formazione tedesca delle Borussia Dortmund. Bene, è andata anche a Napoli di Carlo Ancelotti che con un ritrovato in signe vince in rimonta contro il Salzburg con il punteggio di 3-2. Stasera poi due importanti incontri per quanto riguarda l'Europa League nella terza giornata della base a Gironi. La Roma affronterà il Borussia Mönchengladbach, capolista della Bundesliga tedesca, mentre la Lazio sarà in trasferta in Terrascorsese contro il Celtic tedesco. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento questa mattina alle 10 su Radio TRC con Live Sport per la presentazione degli avvenimenti del fine settimana. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 come sempre con il flash di metà giornata alle 13.15. Grazie e a più tardi.